Ciao a tutti amici, io sono Giulia, io sono Emily, io sono Jazzy, io sono Charlotte e io sono Sofia e speriamo le Miracle Tunes! Allora, oggi andremo a fare una challenge, in generale c'è una challenge, la pre-challenge Comunque dobbiamo ascoltare la canzone e chi spinge per primo il pulsante potrà indovendarla L'abbiamo leggermente scassato, è la regola che noi abbiamo fatto e mi chiuso le cilacchia Ci sarà anche un premio, quale sarà questo premio? La linea scuola delle Miracle Tunes! Io non la riceverò mai perché neanche io ragazzi Io ci provo, si arriva a 8, chi schiaccia e non sa la risposta non può più rispondere Quindi abbiamo soltanto una chance Iniziamo, vai iniziamo Ciao Ma come? Drivido Adoro Ma Sì, dal primo secondo non capisco Rollercoaster Finisce sempre così quando siamo io e te Ma cosa? Che sta arrivando? Che sta arrivando? Una misura Non sa Una busta Eh, aspetta, io la so Adore Ah! Rockstar Siamo tutte a uno tranne Charlotte Io riparò a zero, mi sa Aspetta, ho un'amica Non restare anche un amico No, no, io non stesso Ma dai ragazzi No, no Sì Ah! Ahia Velo sei Ancora un po' di vero Davide come stiamo Davide Non ci sono Si chiama Stiamo forte Stiamo forte Stiamo forte Aspetta Siamo single Stiamo per dire Cos'è state siamo single Pettinero Aspetta, invece arrivo 5, 4, 3, 2, 1 Rotten? Sì No, non è rotten No vai, blocca direttamente Ho fatto bene Ok, non lo sappiamo Ho fatto bene Guarda come flexo due No, davvero No, scusate, no Recaponteggi 0, 5, 1, 2, 2 Pezzi di Maddie Knight Oddio, è dolore Aspetta, lavantaggia Oh, male Pensa Perché finisce il tempo No, ma scusa Ma non la sta sentendo No, ma devi sentire A me sembra Lily Bugabon Aspetta Ti sembra Lily Bugabon Un ignorante Rotten No, basta, non sono rotte Viene di lui Scusi Ma le fai Qual'era? Qual'era giù? Non sapevo ma non mi ricordo il titolo Ma avete sentito eh Emily? L'unedì lei fa I don't know Vedi? Money in the grave I have a job Dai, però Mademoiselle Mi puoi Cerca persone Cerca persone Ma che canzone è? Espere basta Cerca punteggi 1, 6, 1, 2 Mamma mia Jossi Ehm Veleno 7 7 Rotten Finalmente 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 Ragazzi Ragazzi ho vinto Io avrei potuto vincere però Sono scema e non mi ricordo mai Arriva il regalo Ciao Ragazzi Ragazzi Astuccio Miracle Tunes Troppo bello Astuccio Miracle Tunes Elementare Penarelli A questo di queste due figote Infatti no Sacchetta per ginnastica O per ginnastica E' il big premio Un tainetto mio Ragazzi Ragazzi Anche Giulia un po' se l'è cavata Però se fosse un po' più Ve la imito Reattiva Ecco ve la imito eh No Aspetta No Aspetta ci sono quasi Questa challenge Finisce qua Già sei troppo brava Basta Quindi vi è piaciuto Mettete un like E diteci anche Quante canzoni sapevate Tra queste Esatto E quindi tutte insieme Miracle Tunes Up Lasciate un like A presto A presto